Un cordiale buon pomeriggio, innanzitutto chapeau a queste aste che sono venute a Bustazizio, complimenti agli allevatori che hanno presentato dei cavalli bellissimi e anche agli acquirenti, ma tutto il team delle aste, cominciando dai berardelli, un po' tutti che hanno coadiuvato veramente al top dei top, un'asta veramente da ricordare e da ripetere l'anno prossimo, senza accorgimento perché è stato il top. Prima del convegno, Bristol e Bellini, sembra un match tra i due, sono due anni, prende velocità la macchina, arretrato bacco bacu, chiusura, facile come da copione, Bizerab, notevole della sua partenza, va facile al comando. I cavalli affrontano la piegata e il Vidar di Giorginio completa il lancio in 14. Una mezza ruota di Bristol, questo ONCR con Gaetano Di Nardo che viene a chiedere strada. Si completa la piegata e ha anche il quarto iniziale, quarto iniziale nell'ordine del 29.9, sta passando l'ONCR e infatti il targato CR ha il comando. Per linee esterne Bogotà-Tor cerca la risalita. Completamento dei 600, 44.4, ci viaggia da 1.14, e i cavalli che affrontano la piegata, Polero, Gar, per linee esterne, ma non è bello di andatura. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio gettonato in un minuto e un po' di spiccioli, 16 di frazione. I cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, Bolero, naviga a largo e galleggia per il momento. Allunga bene l'ONCR di Gaetano Di Nardo, completa il chilometro in 15.5, 15.1 di frazione. Lo segue sempre il Vidar di Giorginio, e cioè Biserabu, un bel sauro. Allunga e si distende alla grande l'ONCR, frazione notevole in 14.6. E siamo al completamento della curva finale. Retta d'arrivo con Bristol-CR al comando. Retta d'arrivo Bristol per proprio conto, stallono nuovo, stallono da affidare veramente, da confermare. Cima rosa, l'allevatore di ONCR, è iniziato alla grande. Bene Biserabu, viene bene ora Bellini-Griff, ma era ultimo in partenza, e prende solo il terzo posto, notevole, 1.59.4 in scioltezza, 1.14.6. Ribadisco l'annata positiva alla prima annata di ONCR che funziona dai toniatti. E possiamo dire che questo ONCR veramente è una bella novità per quanto riguarda gli stalloni. e quindi abbiamo ancora un nuovo stallone da seguire con, attenzione, 1.61 la quota. Bene, bene, bene Biserabu che fa sempre il suo dovere, questo sauro, mentre Bellini paga una lentezza iniziale. I numeri 1, 4, 7, Bristol-CR, ONCR. Sugli scudi già la prima annata.